ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video vigilia vigilia di derby quindi si inizia a respirare no quest'aria l'altro giorno vi dicevo io ho già la testa al villareale e ve lo confermo e vi dico la verità durante la conferenza stampa di allegri anche lui e anche i giornalisti hanno dato l'idea di pensare già lì confronti con la champions e poi a un certo punto allegri solta basta ne parliamo poi lunedì della champions perché se no non so di cosa da dire non so cosa vi dirvi lunedì e quindi oggi parliamo del toro e quindi oggi parliamo del toro e domani vivremo la giornata toro alla fine vi darò anche la probabile informazione in base a quello che ha detto allegri e alcune mie idee e poi invece domani prima della partita come sempre il giorno della partita cerchiamo di ricostruire con le ultime notizie quella che sarà effettivamente la probabile formazione vi dico anche che oggi ci vediamo su twitch è giovedì c'è il sub talk e quindi non perdetevi assolutamente l'appuntamento vi metterò nelle storie di instagram tutte le novità inerenti anche all'orario mi piace a questo video iniziamo a calarci nella nella partita nella vigilia la prepartita e scaricate one football link per farlo qui sotto in descrizione potete inquadrare col QR code questo codice con la fotocamera del vostro cellulare scaricate one football e iniziamo a vivere questi cinque giorni che saranno divisi tra torino e villa reale bonucci non ci sarà è out e forse anche martedì non è stato bene già con l'atalanta vediamo se riuscirà a recuperare incrociamo le dita perché anche chiellini out chiesa vabbè è out lo sappiamo danilo è squalificato sapevamo anche questa bernardeschi è out ha un'infiammazione adottore anche lui ha nel mirino la qualifica la la convocazione per gli ottavi di finale di champions quindi inizia a essere una caccia all'uomo perché domani centrale giocherà rugani a questo punto insieme ad elite bonucci un po il discorso che facevo ieri no negli ultimi anni anche bonucci ha perso quella solidità quella fidabilità che aveva sempre contraddistinto iniziamo a essere un po carenti sotto questo lato non mi stancherò mai di dirlo dico da questa estate che rugani è un ottimo quinto ma un pessimo quarto anche se in realtà fino adesso ha fatto molto bene però se dovessimo mai presentarci in champions con rugani perché non dovrà magari recuperare non recupererà magari né bonucci né chiellini poi magari va bene però capisci che sulla carta è un po un problema quindi la mia idea da questa estate non cambia rugani ottimo quinto pessimo quarto vediamo se riuscirà a farmi cambiare idea in questi cinque giorni poi magari recupererà bonucci però parto un po con del pessimismo addosso vediamo un attimo poi allegria l'ho dato iuri ci ha detto sì un animatore bravo ha riportato l'anima al toro bla 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 tutte le cose che si dice di bello nelle conferenze stampa nei confronti degli avversari sold out dice allegri abbiamo bisogno dei nostri tifosi e poi gli dicono è la terza e ultima partita contro squadre che giocano in modo simile e quindi gli chiedono il tridente e allegri fa tutto un giro di parole incredibili allenamenti ruba bandiera quando allegri non vuole rispondere lo sappiamo fa questi giri qua e poi dice non so ancora se schiererò i tre davanti un po vago sotto questo punto di vista in tutti gli altri ruoli molto preciso e questo gioca qui e questo gioca là sul tridente muto un po poi ci arriviamo poi dice il bicchiere secondo me in confronto all'atalanta è tutto pieno è un buon punto e rimaniamo davanti all'atalanta anche se ha una partita da recuperare e dice non dobbiamo accontentarci il pareggio anzi dobbiamo arrabbiarci però diventa un risultato ottimo eventualmente questo pareggio se domani riusciremo a vincere il derby perché allegri poi fa tutto questo discorso no e dice quando pareggi alla fine della partita l'impressione che tu abbia lasciato lì due punti che effettivamente è quello che accade ma a fine anno poi tiri le somme non è il singolo scontro diretto perché anche il punto a fine anno diventa importante a fine partita è sì il rammarico però è mettere insieme tutti i punti e alla fine vedi che cosa succede sì è vero è condivisibile però c'è da dire che quest'anno hai vinto zero scontro diretti fino adesso l'unico scontro diretto che potresti vincere eventualmente quello contro prima in classifica che non è uno scontro diretto perché in questo momento tu sei fuori dalla lotta a scudetto e quindi sì è vero è meglio un punto che zero ma tre sono meglio di uno quindi capisco però il discorso che fa allegri bisogna valutare domani perché se poi tu domani vinci l'atalanta no è ovvio che quel pareggio diventa importante però io ancora quel rammarico per il punto di bergamo ce l'ho poi è vero siamo stati più vicini a perderla che a vincerla come dice allegri perché hai fatto gol all'ultimo minuto però sono sicuro che questa sia la strada giusta è questa è la strada giusta la linea da seguire dobbiamo andare avanti così spero che domani possa essere una grande partita potrebbe essere effettivamente una grande partita poi fa la domanda su bremer ma bremer ti piace bravo lo alleneresti e dice guarda cappello fece l'esempio di redondo no che non gli piaceva poi va al real lo allena e con lui è sempre titolare quindi non ho idea di cosa dirvi di bremer perché poi magari dovesse poi un giorno allenarlo potrei cambiare idea del pensiero rispetto al pensiero che ho in questo momento novità di informazione quadrado domani terzino destro danilo è squalificato l'altra opzione era de sciglio che poteva giocare a destra attenzione che poi a sinistra si apre un triplo ballottaggio tra de sciglio alexandro e luca pellegrini e qui allegri non ha sciolto assolutamente le riserve anzi dice pellegrini contento è voluto rimanere è cresciuto e ha detto prima non stava benissimo ha avuto anche degli acciacchi invece ora in una buona condizione fisica è tornato anche affidabile però mi sembrano le tipiche risposte che dava su arthur quando arthur era un giocatore che non vedeva mai il campo che poi anche lì era un discorso di recupero dall'infortunio condizione fisica atletica non era proprio al 100 per cento e poi dopo è iniziata a giocare su pellegrini invece vedremo se sarà così secondo me è l'ultimo nei ballottaggi per il posto di terzino sinistro domani poi sapete che la mia linea è in questo momento de sciglio pellegrini e alexandro non sarei invece sorpreso di vedere alexandro domani ma ci arriviamo stessa cosa su ken che sta bene vendiamo domani è entrato bene diventa un giocatore importante ora che ci sono tante partite perte chiuso a parentesi giocatore a turnover non è un titolare e quando c'è la possibilità di metterlo dentro si fa non credo che sarà il turno di ken domani ma arriveremo a far vedere la formazione che secondo me sarà quella di domani definitiva non definitiva poi che cosa dice c'è una modifica nella juventus si è cresciuti di consapevolezza per via di una cosa sono stati messi da parte i vari obiettivi individuali e sono stati messi al centro invece quelli di squadra e c'è voglia di tornare a vincere questa mi sembra una frecciatina una stoccata nei confronti di cristiano ronaldo e non è la prima volta che allegri dice questa cosa però è ovvio che quando va via uno come cristiano che è una calamita attira su di sé riflettori attira su di sé attenzioni e tutto poi la juventus torna al centro del villaggio e questa cosa si sta un po vedendo anche a manchester adesso c'era stata la voce di ronaldo alla roma da murigno volevo fare anche un video su questa cosa ieri non ho avuto tempo di farlo però secondo me dato che non è la prima volta che lo dice allegri questa cosa qua è una frecciatina nei confronti di cristiano ronaldo una frecciatina vera e propria poi fa morata tecnicamente non si discute ora sta facendo bene è più tranquillo è più sereno ma parare il mercato oggi non ha senso perché bisogna concentrarsi sul momento per raggiungere risultati ci sono tre mesi fatti bene da divertirsi in cui si può fare qualcosa di fatto bene non pensiamo al mercato pensiamo al presente per questa cosa qua poi dice dobbiamo giocare le partite sul stesso piano degli avversari a livello di intensità si intende perché poi noi abbiamo magari qualità tecniche superiori e vengono fuori e riusciamo a vincere le partite però di base devi metterti a livello degli avversari fare il certo tipo di lavoro atletico che fanno gli avversari sono molto d'accordo perché se domani entri in campo e non ti abbassi al livello cioè ti abbassi non perché sei superiore ma se non ti metti alla pari del torino sul piano atletico e di intensità rischi di fare una brutta figura rischi veramente di fare una brutta figura poi parla del centrocampo perché c'è un doppio ballottaggio dice uno tra zaccaria mccenni e uno tra locatelli artur viene da sé pensare che quindi rabbio possa essere l'unico titolare di domani quindi ipotizziamo rabbio titolare più il doppio ballottaggio per le altre due posizioni poi iniziano a parlare i champions dell'inter del psg del real del liverpool e allegri c'è una cosa importante bisogna valutare le squadre sul valore assoluto non di quello di una singola partita e questo è molto molto vero e lo concordo con lui lo condivido al cento per cento non vale solo per questa questo turno di champions vale proprio in generale poi appunto dice non parliamo di champions parliamo di adesso concentriamoci sul toro poi qua permettetemelo concedetemelo questa mano va a fare gli scongiuri in olanda nei paesi bassi perché dicono il toro ha vinto un solo derby negli ultimi 27 anni è il derby più sbilanciato d'italia e allegri dice guarda i derby non sono mai sbilanciati perché comunque il torino gioca col cuore poi c'è tutto un discorso inerente alle gufate gli amici domande che e risposte che non ci interessano questa invece è la probabile formazione che vi dico oggi come vedete non c'è pellegrini come vi dicevo secondo me è l'ultimo proprio nelle gerarchie come terzino sinistro tridente avanti assolutamente sì per quanto mi riguarda per giocare uomo su uomo sui tre centrali del toro rabbio appunto l'unico che in questo momento potrebbe essere considerato titolare centrocampo secondo me giocano zaccaria locatelli non gioca mckenny non gioca artur la difesa la data allegri quadrado titolare rugani d'elite scesne in porta secondo me questa sarà la formazione titolare di domani ma fatemi sapere anche un po la vostra e ci vediamo oggi su twitch no con il sub talk per approfondire magari anche questi argomenti dato che la diretta la fate voi la decidete voi siete voi a decidere gli argomenti voi a decidere di cosa parliamo quindi ci vediamo assolutamente in diretta questa formazione vi convince secondo voi è quella titolare sarà quella titolare è quella giusta visto che dopo tre quattro giorni dopo giochiamo in champions con villareal e e Grazie a tutti